musica ben ragazzi chi cominciamo questo non è il video ragazzi 100 like per un altro video su domenica spiderman 2 e ci arriviamo però spolleggiati più dove erano le nostri? ah raga erano le nostre dove c'era quel tizio c'è un civile che diceva al civile se lavorava per un'azienda c'è per qualcuno e il civile ha detto di no e così e io dovrei salvarlo gli eroi sono io che metto il game cominciamo potremmo notare una strana capillatura perchè se giriamo la testa no a ver se cominciamo ok vediamo qui ok adesso parliamo piano perchè sono alle 1 di notte è tardi no? comunque se mi frega ma tu siamo veri pro che devo fare? raccomodato se si sente rumori strani sapetelo che è il mio mouse è normale cazzo sto andando io comunque ok devo fare fuori quello lì dai vai 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 ah devo dire che sono un po' naffreddato sono vero pro non ho detto ok comunque vai ok mi chiediamo fuori quello ragazzi in questo video vedete che non parlo perchè mi sono contenta quando il gioco vai 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 spadi paar vai 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 spadi sono grandi, sei un grande, sei un grande, sei un grande, vai vai, vai di, ti stimo, grandi, grandi, dai come, grandi, sono grandi, ti stimo, che morta, vai nessuno, sono bug, vai salviamo il civile. Sono andato a vedere se potevo aiutare, sono arrivati i suoi amici, ero sporco di sacco e non mi hanno creduto. Era Madonna, qui tanto, che aspetto aveva, bianco, e rossi, ma se lo assiste, è una racista, è una bianca, mi deve dire, non so, un uomo qualsiasi, vabbè, un tablet, cos'è che hanno lo Spider-Man, un tablet, raga, ma sembra un tablet, no, una portafoglia, un portafoglio, scusate, scusate, ho sbagliato, capita. Il preda e i predatori, raga, forse questo è l'episodio 5, l'episodio 6, non me lo ricordo, comunque, come ho detto, se ne va 100 likes, farò un altro episodio di Spider-Man 2, dai, muoviti, raga, è lentissimo il caricamento, raga, forse taglierò. 2000 years later, six and a half hours later, a few inches later, day two, day three, day four, a few moments later, one eternity later, three days later, 12 sec- ok, perché lagga, raga, mi lagga Spider-Man, cioè mi lagga il gioco, a parte che la grafica del gioco è una figata, io ve lo dico, raggiungi Kraven, ok andiamo, perché erano i tasti, raga dove, ah, cosa è così, ah, ok, giusto, che mi sa, c'è, ma chi è, chi è, chi è, chi è, oh, chi è, ma sei tu, oh, vieni qua, eh, ma cos'è sta roba, eh, ma una figata, perché mi danno la caccia poi, io sono un buono eroe, cioè, sono un occhio cattivo, be', a parte che sono livello di minaccia, quindi andiamo, 2000 vabbè, io raga, italiano quasi, eh, oh, molto schifo, eh, no, vai lì, vai lì, eh, vai, 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 fraff, sì, ok ragazzi ci siamo quasi io ho finito devo tre armi oh ma perchè? vai 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 ragazzi metti in cominci se mi piace questa canzone cioè questa canzone sottofondo guarda che Gravel sembra uno affinato aspetta vuoi conoscere davvero la tua preda solo se la osservi mentre caccia ti prego giuro io non c'entro niente con la sparatoria io guidavo e basta tu sei quello che li ha visti morire? si ah lo ammetti bene allora raccontami tutto quello che sai poi mi dirai quello che voglio sapere spiderman spiderman il tuo look mi piace molto ma lo stile che noia sai i veri ragni sciolgono la loro preda dall'interno è il bel tuo rima fra considera l'idea e tu sei carnage killer? perché sono un odio per i criminali? sono killer nessuno conosce meglio la morte che cosa sentono quando sono nel suo gelito abbraccio che percezioni speciali hanno? c'è così tanto da imparare sei pazzo per cosa? per fare quello che vorresti ma non puoi ma io non so di cosa parli ti faccio vedere io potrei insegnarti a essere un vero freddore il ragno via la maschera spiderman ti guarderò negli occhi mentre vuoi guarda guarda che morte di liberità che ti faccio morte di liberità conosco la verità nei momenti più bui vorresti essere abbastanza forte da fare come me ma sei se dico sei uscito da una caverna molto brutta ma ti hanno fatto nascere in un posto di libero che fanno segno uccidimi so che vuoi farlo no io non uccido guarda gli ho detto che non sei come me ho fatto oggi ho imparato una lezione ho fatto io ho pagato io non mi sei pagato carl and krill ca... car... ma qual cazzo di si eh... kludus come cavolo si chiama questo tizio si è pagato sono... sul numero ma sei pagato hai scelto di ignorare il mio consiglio Guarda, ma si è raggiunto Non la facciamo E cosa ti aspettavi? Che stessi lì a guardarlo mentre uccideva quell'uomo? O che lo fermassi? Questa è un tipo di tramitosto Perché è un po' cattivo Sto cercando di risvegliare il tuo istinto omicida Quello che tu cerchi di negare Io non sono così E non voglio diventare così Mai Allora ci sarà sempre Un predatore più grosso Di te Cioè lui sarebbe la predata più grossa di me Cioè io sarei più grosso di lui Sei due volte più grande di lui Che cosa vuol dire sta roba? A parte che è bruttissimo dire io sono più grosso di te Bruttissima come dire Ora che sta andando carmi Guarda un filo Grazie tante per il passaggio Questa faccia che c'ha Spero di poter ricambiare il favore Ma si salva in modo rapido E non troppo doloroso Anche se li si stanno No, non è inutile Buongiorno No No, non è inutile Buongiorno Mi chiamo Donald Menken Le assicuro che E' un po' che cazzo è un po' che cazzo è un po' Normal Ma No Io imparerò molto da voi Cose Che non immaginate nemmeno Di sapere Non vedo l'ora Mi piace Raga Oh cazzo di merda Comunque Gli artigli della gatta nera No, della gatta Dai muoviti Raga ma pure qui Vale Si caricamente mi fanno annoiare a morte E' un po' che cazzo di merda A causa dell'aumento della violenza Sì anche Com'è Io non so La minaccia per me Ma l'ha fatto io C'è bastardi C'è bastardi ma forte Ma cosa ho fatto io Ma cosa ho fatto Spiderman Sanno 11 minuti Ragazzi sono un po' di più fa Spiderman Sono Whitney Sai che sono dalla tua parte Ah Whitney C'è me Qui ti ha un consiglio Attento una dark force E la novità Dov'è Me lo concludo qui il video Me lo concludo quando Siamo arrivati nella centrale della polizia Andiamo Dai Spide minchia Ma quanto sei lento Dai Fa più bizze Per più vai Vai Spide minchia Dai A parte che sia per cadere La webcam Che sta colmando il vuoto di potere Nessuno conosce il suo vero nome Potete recuperare Delle informazioni Ok Vediamo finalmente Tre ore Mi mancava un altro aspirante boss Che vuole il suo impero Unità della scorta Prendete posizione intorno al concoglio Occhi aperti Stiamo spostando le prove Perché fanno gola Troppi malviventi Non credo proprio Che ci lasceranno fare Ok ragazzi siamo già arrivati Eccolo qua Come voglio Non ora Ti capisci già Che sono amari qui No ma dai Fai Scappa 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 Queste storie di occulto Mi danno i brividi Meno male che ci sei tu con noi Grazie Piacere mio Non possiamo permetterci altro pericolo nelle strade Cominzioni Cominzioni dei furgoni Ci sono quelli Ma dai Oh figata Che Raga mi ha figato Quello che ha fatto il spy Adesso Figata Ah ma forse Dobbiamo difendere Difendere il furgone Oh Ok Sembra facile Questa zona Non mi piace per niente Oh Che f***o successo Che f***o è qui Oh Che f***o è qui Tu non sai chi sono Io sono Sono il Sly di Figo Figo Parlo di un sport E poi sui dettagli Allora Mi dispiace per Se Se senti che rumori Del mio mouse Mi dispiace Inizio a pensare Vabbè la prossima settimana Comprirò il Cosa Che Si chiama George L'altro George Che è stato esploso Che è stato Lì sotto Dai continua vai Andiamo Che manca Amo Che Ma Che Che Ma 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 Che Ma 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 Che 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 Ne Arriveranno Altri Spiderman Vedi qualcosa Auto piena di esplosivi Devo neutralizzarli Oh No Dai Che fai Di sì Qui Ehm Qui Che fai Se fai Se non Guardi Spiderman Non esplodi Tutto Più Ti è esplodi Il fulgore No Tu Che manca Quello Dai Che manca E che manca Che manca Che manca Che manca Che manca Ma Non è 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 Ma te perchè lagga il gioco? Se volessi attaccare io lo farei qui Ah no, queste no, ma basta non ti fai Non vi do niente Perciò adesso Cioè ho scaricato il comando a casa A cazzo di chi? Oh No Dai Spidey Mi ha finito? Dime che mi ha finito già da 15 minuti Oh cazzo Dai Sì 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 No, sì ci sono Odiamo va Scusatemi per starmi un po' No 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 Scusatemi E' un disastro Oh Ho finito o no? Cosa che aveva finito? Oh ma sei un bastardo oh Oh ma sei un bastardo Che cazzo vuoi da me? Ho fatto? Oh mio Dio, malissimo ragazzi Questo concetto è benissimo E' che cazzo Sto cidendo Sto cidendo Oh aspetta Sto cidendo Tutto Sto cidendo I don go in non c'è niente abbiamo parlato con la signora che ha chiamato dice di aver visto spiderman che entrava ma il busto è disillato e non è scattato nessun allarme ricevuto 228 forse ha letto troppi editoriali di jenzo il mio scritto mi ha detto cosa edito nei video io uso sono la lega si propria di caso anche premier ciclo però mi sono i big as pro 13 a pagamento si vuole il craccato e deve cercare su youtube non lo posso dire no a premier cc pro ai gratis anche quello a pagamento però è gratis bello raga 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 aspettate che vado lì aspettate aspettate vuoi farlo ancora figlio a figlio no aspettate eh non ti si piace raga qui finisce il video non ti si piace grazie raga concludo quel video lasciate un like e si iscrivetevi al canale prendo i nuovi video commentate il video e ecco è tutto bella e volevi